Antonella del Core, grande vittoria in rimonta con la Germania Sì, finalmente un po' di reazione, ci tenavamo dopo, troppo soprattutto dopo la partita di ieri Peccato che sia arrivata un po' tardi, ci abbiamo messo un po' a carburare Eravamo un po' arrugginite all'inizio, è stato difficile però brave a venirne fuori Spesso avete detto di dovevate reagire nei momenti difficili, così è stato però Sì, è importante per noi, è importante vedere che c'è anche quest'Italia che sa reagire E soprattutto che continui a giocare a questi livelli che faccia meno alti e bassi Questo è molto importante, avere una sostanza di gioco